Benvenuti al bedificio Refuel, il nostro marchio nasce nel 2019 per una partecipazione, un gruppo di amici che si è trovato a cena e ha deciso di interprendere un progetto. Il progetto è nato da Oscar, caro amico, pilota di linea da 20 anni e con gli altri due suoi amici, uno sono io e un terzo amico, anche lui pilota di linea, abbiamo deciso di provare a commercializzare una birra che veniva fatta in casa. E quindi ci appoggiamo a un bedificio di Carrù che ha una grossa expertise nella birra artigianale, il Masto Birraio lo fa da più di 30 anni e con le sue doti e capacità abbiamo adattato dalla piccola forma di 30 litri a casa a 1800 litri quello che era poi il prodotto. Siamo partiti con due linee, la prima è stata una APA, poi abbiamo allargato, siamo arrivati oggi a avere sei linee, la settima è una linea di importazione da un birificio artigianale che ha 200 anni di storia della Repubblica Ceca. Questo per dare la possibilità di soddisfare più palati possibile. Il tema come vedete è motoristico, il refuel deriva proprio da cercare di associare la birra, quindi la nostra passione a tavola, l'aperitivo, a quello che è la nostra passione che è poi diventata un lavoro di fare pilota di linea e di continuare a volare anche per passione. Infatti siamo presenti in alcuni eventi di avviazione generale e cerchiamo di costruire il marchio piano piano, dopo aver passato due anni come tutti un po' difficile. Però questa è la nostra piccola storia in breve.